Buongiorno, guardate che sono un uomo libero, state tranquilli, perché un minuto fa il GIP ha revocato l'arresto, ha revocato il sequestro, ha revocato tutto, ha sconfessato sostanzialmente tutte le porcherie che noi abbiamo subito in questi giorni. Vi prego soltanto di una cosa, ho bisogno due o tre giorni per completare le denunzie che stiamo depositando, perché stiamo denunziando tutti per farsi in atto i giudiziari, per infedele patrocinio, per calunnia, ce n'è per tutti. Quindi vi chiedo soltanto un supplemento di attesa, ho bisogno ormai due o tre giorni di stare concentrato con i miei avvocati per completare le denunzie e depositarle. Poi faremo una bella conferenza stampa e ricominciamo la nostra attività politica. Per il resto, ovviamente, abbiamo un conto aperto con alcuni personaggi nel Tribunale di Messina e noi non stiamo assolutamente col capo Chino. Noi denunziamo qualunque tipo di mafia, anche quella giudiziaria, lo ribadisco e andrò avanti con forza. Vi ringrazio, vi do un grande abbraccio. Siete stati grandiosi, non mi è mancato il vostro calore, ora vi chiedo soltanto di avere qualche giorno di pazienza. Un bacio a tutti voi!